8.000 metri quadrati di superficie tra commerciale e magazzino, 60 persone assunte con l'obiettivo di raddoppio del fatturato in 4 anni portandolo a 500 milioni di euro nel 2022. Questi numeri del Mercatone 1 di Arzano, chiuso nel 2015, è riaperto grazie all'impegno della nuova società. La Sherman Holding SRL che lo scorso 9 agosto ha acquistato 55 punti vendita a marchio Mercatone 1 in tutta Italia, annunciando il rilancio del brand. Una notizia molto importante per il sindaco di Arzano, Fiorella Esposito. Una riapertura è importante se si tiene conto che in questo luogo lavorano molte famiglie arzane, molti capofamiglia di famiglie arzanesi. È importante perché segna la rinascita di un territorio dal punto di vista economico. È importante perché segna una sfida che una parte d'Italia lontano da Arzano, la proprietà, sta facendo e investendo sul nostro territorio. La benedizione dell'Arcivescovo di Napoli, il Cardinale Crescenzio, sempre ha dato il via alla cerimonia di inaugurazione dello store. Io sto scoprendo una realtà di cui avevo sentito parlare, ma mai constatato di persone come lo sto facendo adesso. Sono quelle modernità per cui cercano di andare sempre incontro a quelle che sono le varie possibili esigenze dei cittadini. E nello stesso tempo offrire loro quelle qualità, quelle risposte che sono di ognuno, ma che comunque poi diventano un fatto importante per la propria vita, in casa, fuori. Sul fronte occupazionale la Cernon si è impegnata a preservare e valorizzare tutte le risorse umane presenti in azienda ad oggi 1885 dipendenti. Come conferma Valdero Rigoni, CEO di Cernon Holding. È un forte impegno, noi puntiamo sulla continuità e la sostenibilità, ovviamente portando a bordo la nostra identità. Questo ci consentirà di garantire l'occupazione e lo sviluppo del territorio. L'obiettivo della nuova Mercatone 1 è preservare la tradizionale convenienza, affiancando all'attività dei prezzi maggiore qualità dei prodotti design moderno e sempre più servizi ai clienti pre e post vendita.